Il 2023 sarà un anno di rallentamento mondiale con evidenti ricadute anche a livello provinciale, nonostante alcuni segnali di tenuta dell'attività economica che contribuiscono a delineare un quadro meno nero di quanto stimato lo scorso anno. Sono i dati Prometeia elaborati dalla Camera di Commercio sull'andamento dell'economia aretina. In provincia di Arezzo, sottolinea il presidente Massimo Guasconi, il valore aggiunto 2022 si dovrebbe attestare a fine anno a circa 9,48 miliardi di euro in crescita del 4,7. Nel 2023 evidente la ricaduta con un valore aggiunto di 9,96 miliardi e una crescita dell'1,4%. Analizzando i singoli settori, l'agricoltura, dopo aver subito una perdita nel 2021, dovrebbe recuperare abbondantemente negli anni successivi. Al contrario, il manifatturiero, dopo un brillante 2021, nei successivi anni potrebbe subire un decisivo rallentamento. Le costruzioni, grazie alla potente spinta degli incentivi fiscali, crescono nel 2021 e nel 2022, ma nel 2023 invece si registra un sensibile rallentamento. I servizi, dopo aver chiuso il 2021 con un più virgola 3,8%, accelerano ulteriormente nel 2022, per poi manifestare segni di rallentamento nel 2023. L'elaborazione dei dati, spiega il segretario generale Marco Randellini, ci permette anche di prevedere un plausibile andamento dell'export. Il 2022 si è chiuso con una crescita dell'8,9%, grazie al comparto oro e moda. Per gli anni successivi, le stime mostrano una prosecuzione della crescita. Per quanto concerne poi il reddito disponibile e delle famiglie retine, a valori correnti le stime mostrano una crescita del 6,6% nel 2022, per poi assestarsi nel 2023, un andamento che però non tiene conto della dinamica inflattiva. Anche la spesa per consumi finali delle famiglie, aumentata in modo considerevole nel 2022, evidenzia una successiva fase di assestamento. Sul fronte occupazione, infine, per quanto riguarda gli occupati, ad un positivo bilancio per l'anno 2022 dovrebbero far seguito andamenti moderatamente positivi anche negli anni successivi.